Sono ancora in attesa di un acquirente dei quattro banche ponte, nate dalle ceneri di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara. Intanto nei giorni scorsi, allo scadere della fatidica data del 30 settembre, termine posto per la vendita, la Commissione europea ha autorizzato l'estensione del processo di vendita delle quattro Good Bank, prolungando così i tempi per la cessione. Non posso fare nomi degli interessati, anche se vedo che i giornali si sbizzarriscono sui nomi più vari, alle volte fantasiosi, alle volte realistiche, cioè dando tanti nomi qualche volta qualcuno si azzecca. E quindi la vendita va avanti, noi come Nuova Banca Etruria abbiamo l'orgoglio di essere su più tavoli, quasi su tutti i tavoli. Non era così a gennaio, l'immagine di questa banca era un'immagine deteriorata, con ragioni ma senza tutte le ragioni. E quindi essere oggi considerati come elemento trainante della vendita è una soddisfazione non da poco per tutti noi che su Nuova Banca Etruria abbiamo investito tanta energia e tanta passione. Adesso c'è un dialogo costruttivo con tante entità italiane e soprattutto europee per cercare che questo dialogo costruttivo diventi realtà. Direi tempi non lo so, potrebbe essere pochissimo, potrebbe essere un po' più in là del tempo. Però oggi finalmente abbiamo avuto una proroga che non è una proroga con tempo e scadenza dettata, che qualche problema non nascondo che ce l'ha creato nel passato. e quindi siamo assolutamente fiduciosi.